Il problema è sfruttare un diritto per specularci sola. Ormai in questa città è diventato impossibile trovare un appartamento. Se sei una famiglia, se sei un giovane, se sei una persona sola, è diventato impossibile. Siamo alle porte di un giubileo che sta determinando che ci vogliono 8-900 euro per una stanza in affitto. Tutto ciò è allucinante, è inaccettabile. Ecco, serve una regolamentazione vera del fenomeno del BNB, perché sta strangolando la città e cacciando le persone dai quartieri per spedirle fuori dalla nostra città. Affinché si possa costruire una rivendicazione da parte nostra rispetto al diritto all'abitare. Sono migliaia in questo momento le persone che hanno difficoltà a trovare una casa, precari affitti o di lungo periodo. In questa città chi lavora non può più permettersi una stanza, non può più permettersi di un affitto regolare. Il mercato immobiliare di fatto non ha più case in affitto di lungo periodo. Le uniche abitazioni che si trovano sono quelle per gli affitti brevi. Tra l'altro questo sta generando ovviamente che quelle poche case in affitto hanno dei pezzi spropositati. Siamo ormai tranquillamente degli 8-900 euro per una singola, in quartieri anche semiperiferici o anche periferici. Quindi la situazione è estremamente allarmante per tanti giovani, per tante famiglie che hanno bisogno di una casa per vivere a Roma, che sono di fatto cacciati via dalla città. Questo è il grande problema che oggi abbiamo voluto segnalare con questa azione alla sete di Booking Italia. Io sono stato avvisato dai miei proprietari dell'abitazione in cui sono attualmente, ai primi di settembre, quindi in concomitanza con la scadenza del contratto, che non avrebbero voluto rinnovare il contratto in quanto avrebbero venduto, insomma, hanno venduto l'appartamento. Per cui ci hanno avvisato di lasciare l'abitazione entro la fine di ottobre. Sono impegnato ormai quindi da due mesi pieni e deliranti alla ricerca di un'abitazione, fra mille difficoltà, sono cresciuti almeno di un centinaio di euro per la stanza singola e in proporzione chiaramente sono cresciuti anche gli affitti canoni di affitto per l'interappartamento. Nella buona parte dei casi, della mia esperienza, ovviamente sono tante le proposte di affitto in nero che ho ricevuto, nonostante magari i prezzi comunque lievitati rispetto alla media dello scorso anno, che più o meno si attestava agli 450, quest'anno invece si aggira tra i 500 e i 550, ma non mi è capitato poco frequentemente di trovare anche posti letto a 550, quindi in una stanza doppia, o di stanze in affitto a 860, a 750, a 900 euro. Qui questo posto è diventato solo ad uso e consumo di turisti, piattaforme turistiche e di quella pagina lì non è rimasto niente e quindi noi siamo qua oggi a ricordare anche quella storia, che è un pezzo di storia che ci rappresenta, che è la storia delle persone che sono escluse sistematicamente dalla città in cui sono abitanti e non ce la facciamo più, gli affitti non sono più un tema rimandabile, la casa non è più un tema rimandabile, non ci sono più neanche offerte, non ci sono più neanche proposte di contratti decenti, siamo arrivati a un punto paradossale per cui i proprietari di casa preferiscono mettere il proprio immobile su Airbnb perché in una settimana guadagnano quanto guadagnerebbero in un mese con un affitto 4 più 4. Ditemi voi se questa è una città in cui è possibile continuare a vivere, perché se abbiamo deciso che deve essere solo dei turisti almeno abbiate le palle di dirlo. E quindi noi siamo qui oggi simbolicamente in una delle sedi di una di queste piattaforme a dire che basta, non è più rimandabile, il giubileo non può essere una scusa per fare speculazione sulla pelle degli ultimi. Il Comune dice di non avere nessuno strumento per mettere in campo delle azioni che frenano questa cosa, secondo noi no, non è così, tra l'altro si può intervenire anche nell'ambito del piano regolatore. Aggiungo pure che c'è un piano casa che sta facendo ormai la polvere nei cassetti al Campidoglio, che non è attuato, che prevederebbe la possibilità di costruire un'agenzia per la casa, di avere un contributo affitto in maniera tale da provare a limitare gli effetti devastanti del processo di arbiambizzazione della città, almeno per proteggere tutte quelle famiglie, tutte quelle persone che stanno rischiando lo sfratto, perché non sanno più come pagare gli affitti che sono diventati insormontabili.